buongiorno oggi mi trovo a sementina e quello che vi sto per mostrare è un nuovissimo appartamento di 2,5 locali entriamo questo è un corridoio alla mia sinistra abbiamo un comodo armadio a muro e di qui entriamo nel salotto con cucina a vista open space ripeto questo è un due locali e mezzo situato al secondo piano è una palazzina nuova con quattro piani totali con 12 appartamenti in totale questa è la cucina cucina super accessoriata con frigorifero bello grande congelatore lavastoviglie forno vetro ceramica cappa e questa è la sala questa è la vista sono a sementina siamo vicino alle scuole siamo vicino ai negozi e accediamo adesso alla camera da letto questa è la camera da letto spaziosa e luminosa questa è la vista e in ultimo vi faccio vedere il bagno purtroppo non abbiamo ancora la luce quindi un po buio però si vede abbiamo il vc abbiamo il box doccia e abbiamo il lavandino con cassetti e specchiera incluso c'è anche un posto auto esterno il rumore che sentite sono i lavori perché come ho detto stanno finendo questa bellissima palazzina e le spese sono incluse quindi il prezzo che vedete è tutto incluso senza conguaglio a fine anno ed incluso è anche il posteggio bene da sementina è tutto io vi saluto vi invito a venire a vedere dal vivo questo spettacolare appartamento grazie a tutti